In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Sia lodato Gesù Cristo, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronovis. Carissimi fedeli, continuiamo il discorso sul sacrificio della Messa, sul sacrificio della Croce, che abbiamo lasciato la volta scorsa. Oggi parliamo più precisamente della Messa. E diciamo questo, che Dio, come è stato così misericordioso da redimere l'umanità attraverso la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo, così è misericordioso nell'averci lasciato quel rito che attualizza e ripresenta a noi il medesimo sacrificio affinché possiamo attingere ai frutti di salvezza che questo sacrificio arreca. In che modo lo ha fatto? Lo ha fatto già ai tempi di Gesù sulla Terra, cioè prima ancora di salire sulla Croce. Il giorno prima della Passione Gesù ha istituito il rito perenne, il rito della Messa che perpetua il sacrificio della Croce, lo rende presente, lo attualizza e dà quindi la possibilità agli uomini di ogni tempo e di ogni luogo della Terra di poter attingere alla salvezza che questo sacrificio porta. Quindi con la sofferenza nel cuore perché stava preparandosi a questo sacrificio, con l'amore nel cuore perché lo faceva per amore nostro, dopo aver detto che era stato tradito da uno dei suoi discepoli, Gesù istituisce nell'ultima cena questo rito, questo rito perenne. Ecco, le parole del rito che conosciamo tutti quanti sono trasmesse dagli evangelisti, nei tre evangelisti sinottici, e da San Paolo. San Paolo scrive così, Il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e avendo reso grazie a Dio lo spezzò dicendo questo è il mio corpo dato per voi, questo fate in memoria di me. Così pure preso anche il calice disse questo mio sangue del nuovo patto versato per voi. Ogni qualvolta berrete di questo calice, fate questo in memoria di me. Quindi Gesù nell'ultima cena offre se stesso, offre il suo corpo, offre il suo sangue a Dio sotto le specie del pane e del vino, e dicendo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. usa proprio il verbo essere. Il verbo essere nel modo indicativo è, perché l'indicativo è il modo della realtà, non è un'ipotesi, non è una finzione, non è solo un simbolo, ma è la realtà. Quel pane è realmente il corpo di Cristo, quel vino è realmente il sangue di Cristo. e usa il presente perché, perché in questo modo, con questo nuovo rito, il sacrificio della croce si rende sempre presente ad ogni generazione di uomini. è effettivamente il corpo di Cristo, è effettivamente il sangue di Cristo sotto le specie, con la parola specie vogliamo dire sotto le apparenze del pane e del vino. Ora il pane e il vino, il corpo e il sangue di Cristo nella passione vengono realmente separati tra loro, perché Gesù sulla croce versa tutto il suo sangue e il suo corpo rimase esangue, cioè veramente senza sangue. Tant'è vero che oltre al sangue versa anche il siero, che significa che lo aveva versato tutto. proprio come accadeva nelle vittime rituali all'interno del Tempio di Gerusalemme. Le vittime dovevano essere prima dissanguate completamente. Vedete come la morte di Gesù ha tanti aspetti similari a quello del sacrificio delle vittime, delle vittime di animali nel Tempio. Anche Gesù, anche per Gesù avviene questo. Il suo sangue viene separato dalla sua carne. Così anche nell'Eucarestia, vedete, nella celebrazione della Messa, voi trovate queste realtà ben distinte tra di loro. Tant'è vero che c'è una consacrazione per il pane e una consacrazione per il vino. Questo perché la Messa ricorda proprio il sacrificio della croce, quindi il momento in cui il suo corpo e il suo sangue sono stati separati. Ma quando si fa la comunione, noi riceviamo sempre, tutto intero, nostro Signore Gesù Cristo nello stato attuale. Qual è lo stato attuale di Gesù Cristo? Non è quello della passione e della morte in croce. Lo stato attuale di Gesù Cristo è la sua vita gloriosa accanto al Padre. Perciò quando noi facciamo la comunione anche solo ad una specie, forse anche soltanto al vino, oppure come avviene di solito solo al pane consacrato, noi entriamo in comunione con tutto Gesù Cristo, corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Ora ci chiediamo quindi la Messa a questo doppio valore, quello di ricordare e riattualizzare la morte di Gesù Cristo. Per questo le due specie sono separate, ma anche quello di poter attingere ai frutti della redenzione. Per questo quando facciamo la comunione, noi riceviamo tutto intero nostro Signore Gesù Cristo. Un'ultima considerazione. Che relazione c'è tra le messe e il sacrificio della croce? Che relazione c'è tra l'ultima cena e il sacrificio della croce? Che relazione c'è tra l'ultima cena e le messe? Ecco, diciamo che le messe, così come anche l'ultima cena, hanno un valore relativo, relativo in riferimento al sacrificio della croce, che ha invece un valore assoluto. Se mancasse il sacrificio della croce, la passione morte di Cristo, sia l'ultima cena che le messe non avrebbero valore. Hanno valore in quanto si riferiscono al sacrificio della croce. L'ultima cena, in quanto precede e anticipa il sacrificio della croce, è avvenuta il giorno prima, il giovedì santo. Le messe, in quanto ripresentano il sacrificio della croce come un evento passato, ma sempre attuale. Quindi l'ultima cena è la prima messa. È come tutte le messe, ha questo valore relativo, mentre il sacrificio della croce è un valore assoluto. L'ultima cena ha anche un valore di inaugurazione del sacro rito. Gesù, in quell'occasione, inaugura il rito nuovo del Nuovo Testamento, ma anche istituisce il Nuovo Sacerdozio, affidando agli Apostoli e ai loro successori il compito di perpetuare questo rito fino al giorno del suo ritorno sulla terra glorioso. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Fili e Spiritus Santi. Amén.